Un'invasione con tanto di elmi, scudi e lanci alla conquista pacifica tuttavia della Roccaflea. Sabato 30 marzo il Castello Federiciano ha ospitato il convegno dedicato all'approfondimento sulla Tadino-Umeromana e per l'occasione sono arrivati a Gualdotadino in costume d'epoca alcuni rappresentanti dell'Associazione Decima Legio guidati dal presidente Giuseppe Cascarino, promotori della rievocazione alla riscoperta della Via Flaminia che nel settembre scorso da Roma è giunta a Rimini in 14 tappe, una delle quali consosta presso la Tadino-Umeromana in zona Rasina. Regia dell'incontro Sebastian Mattioli del Gaume, il gruppo archeologico dell'Appennino-Umbro-Marchigiano presente anche Enrico Ragni e Vincenzo Moroni dei gruppi archeologici d'Italia. Molti anni la storia di Gualdieto è stata un po' silenziata dalla Tadino-Umeromana e ancora prima Collide Mori e questa iniziativa vuole essere un aspicio sia per riscoprire e riportare reperti anche archeologici scavati dal 2004 al 2008 a Gualdotadino che per creare nuovi eventi e manifestazioni culturali. In futuro ci potrebbero essere manifestazioni quali anche la rievocazione della battaglia di Tagina e altre manifestazioni con la Decima Legio che nel mese di settembre è venuta a Gualdotadino. La parte scientifica dell'incontro che ha ricostruito Entità e Valenza Storica della Tadinum è stata affidata alla dottoressa Laura Bonomi Ponzi, già sovrintendente per i beni archeologici dell'Umbria e al dottor Samuele Ranucci, funzionario archeologo del MIBAC dell'Umbria che ha partecipato attivamente alla campagna di scavi di Taino del 2004 e 2008. Quanto era grande non lo sappiamo, qualche ettaro, 20-30 ettari di solito erano queste città. Era un municipio romano, faceva parte dello Stato romano, era come un po' i comuni attuali c'erano dei magistrati, dei luoghi pubblici, insomma era una città. Era importante perché lungo la strada era un centro anche di incontro, un centro commerciale, un centro di passaggio. Oggi della Tadinum romana emersa dagli scavi non è visibile nulla. Il sito venne reinterrato circa 6-7 anni fa, non essendo possibile passare alla sua musealizzazione per mancanza di risorse economiche. Restano interrati mosaici e strutture murale che avevano fatto ipotizzare l'individuazione di un'area termale. L'auspicio di una resurrezione dello scavo è grande, ma anche complessa. Per riportare alla luce soprattutto i mosaici e gli ambienti scavati della città di Tadinum ci vogliono dei fondi consistenti. Certo sarebbe bello averli a fare un progetto, forse anche un progetto europeo, però bisogna anche risolvere il problema della linea di alta tensione che corre proprio sullo scavo, che quello è pericoloso. Il pomeriggio ha avuto un prosieguo in una visita guidata al Museo degli Antichi Umbri che fa parte del circuito museale cittadino. L'occasione è servita anche per presentare il riavvio per la stagione primavera-estate del laboratorio didattico che il polo museale ha costruito proprio sul tema dell'archeologia e della storia gualdese. Da oggi è anche un progetto per le scuole di ogni ordine e grado, grazie allo scavo archeologico simulato. Infatti non finisce qua perché dopo il convegno da questa primavera sarà riattivato il progetto archeologi per un giorno. Grandi e piccoli potranno nel parco della Roccaflea partecipare ad un progetto di scavo simulato dove in effetti si ritrova proprio un ambiente dell'atadinum romana.